Leonardo Silva Revisore Blockchain, catena di blocchi. Quanti di voi avete sentito parlare di blockchain in ogni modo? Su giornali, internet? E quanti di voi potreste dire che cosa sia esattamente blockchain, in poche parole? È quello che cercherò di fare in questo poco tempo. La mia storia non inizia con codice di programmazione, ma con una mano di poker. Immaginate di giocare a poker con persone che non conoscete e di far parte di un gioco in cui nessuno ha denaro contante né fish e che sul tavolo, a parte le carte, non ci sia null'altro oltre che fogli di carta bianca. Certo, potreste ritagliare i fogli di carta in piccoli cerchi e farne delle fish, ma, non fidandovi l'uno degli altri, avete paura che possano imbrogliare, ad esempio ritagliando di nascosto le fish o passandosele sotto il tavolo. Decidete allora di distribuire queste pagine ad ognuno e vi impegnate ciascuno a scrivere chi scommette quanto, chi vince e chi perde. ognuno tiene la propria coppia accanto a sé, visibile a tutti. In questo modo, se qualcuno commette un errore o prova a imbrogliare, o anche se un paio di giocatori provano a colludere per far perdere qualcuno in particolare, la discrepanza diventa evidente a tutti. dopo un paio di mani avrete riempito una pagina con un registro di scambi di denaro. Chiamiamo queste pagine blocchi di transazioni. Dopo un'ora avrete probabilmente diverse pagine e avrete cominciato a numerarle. chiamiamo questo plico ordinato di pagine catena di blocchi di transazioni. Avete creato una blockchain. La prima e più importante implementazione di blockchain di cui sicuramente avrete sentito parlare si chiama Bitcoin. Nel 2008, proprio mentre l'industria finanziaria statunitense non solo entrava in una profonda crisi, una persona o un collettivo sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto pubblica un saggio in cui illustra una tecnologia che per la prima volta consente di trasferire valore digitale senza bisogno di intermediari fidati. E questo atto, apparentemente semplice, innesca una scintilla che causa stupore, paura e interesse un po' dappertutto. Ma facciamo un passo indietro e torniamo al poker. Bitcoin è un software che funziona esattamente come un enorme tavolo di poker in cui milioni di persone che non si conoscono e non si fidano l'uno dell'altro tengono aggiornata una catena di blocchi, tante pagine, con la storia di tutte le transazioni. Alcune scambiano effettivamente denaro, ma molti sono solo dei volontari che mettono a disposizione la propria capacità di calcolo con i computer per verificare e tenere sincronizzata questa storia di transazioni. Avere milioni di persone che tengono sincronizzata separatamente questa storia può sembrare un buon modo per garantire la sicurezza e l'integrità della stessa. In realtà in un sistema completamente decentralizzato come Bitcoin, in cui non c'è un'autorità centrale come ad esempio una banca a monitorare le transazioni e ad evitare frodi si pongono alcuni problemi. Ad esempio, chi ci garantisce che solo il legittimo proprietario dei fondi possa effettivamente inviarli e chi ci garantisce che lo possa fare una volta sola? Il protocollo di Bitcoin offre garanzie matematiche a questi problemi grazie alla criptografia ed è per questo che essendo basato sulla criptografia Bitcoin è anche chiamata la primo criptovaluta. In particolare, grazie alle firme digitali il protocollo di Bitcoin assicura che le transazioni provengano solo dal legittimo proprietario e grazie ad altri accorgimenti basati sulla criptografia questo grande registro contabile distribuito del valore è resistente a compromissioni e hacking. Negli ultimi decenni abbiamo quasi dato per scontato avere accesso al cosiddetto internet dell'informazione. Se vi invio un file, una mail non vi sto mandando l'originale ma sto creando una copia e non c'è alcun problema è la democrazia dell'informazione ma per quanto riguarda proprietà come ad esempio case, azioni, denaro appunto inviare una copia è un grande problema se vi mando 1000 euro è importante che io poi quei 1000 euro non li abbia più e non li possa spendere nuovamente. Come detto il protocollo di Bitcoin risolve questi problemi che è noto da tempo in criptografia e in la scienza dell'informazione come il problema della doppia spesa grazie alla criptografia e per la prima volta realizza il concetto di scarsità di un bene digitale infatti esiste un limite al numero di Bitcoin che saranno in circolazione e la curva dell'inflazione è scritta immutabile nel protocollo. Al giorno d'oggi la nostra economia si basa su alcuni intermediari e fidati a cui deleghiamo funzioni fondamentali ad esempio banche, assicurazioni e notai funzionano bene ma pongono alcuni problemi innanzitutto sono centralizzati possono essere hackerati e dunque compromessi e sentiamo ogni settimana notizie in merito l'ultima ad esempio la compromissione di Equifax escludono miliardi di persone dall'economia globale rallentano i processi ci vogliono secondi per inviare una mail dall'altro capo del mondo mentre ci possono volere sette giorni a inviare un bonifico in alcune zone e infine impongono alti costi di transazione per inviare denaro contante in alcune zone dell'Africa le commissioni possono superare il 20% e se assieme, parallelamente all'Internet dell'informazione avessimo un Internet del valore un grande registro contabile distribuito un mezzo naturale di trasmissione del valore digitale questa grande sfida è quella che si pone la tecnologia che chiamiamo blockchain Bitcoin è una, la più importante ma una blockchain ne esistono tante altre Ethereum è una blockchain scritta da un ragazzo russo-canadese di nome Vitalik Buterin all'età di soli 19 anni e la sua caratteristica più straordinaria è la possibilità di stipulare contratti intelligenti o smart contracts sono dei veri e propri contratti in codice di programmazione che vengono eseguiti in modo distribuito senza nessun intermediario come ad esempio notai o esecutori e si occupano di gestione, adempimento, esecuzione e pagamento in maniera completamente integrata e ad oggi sulla blockchain di Ethereum ci sono dei progetti che spaziano dalla sostituzione di borse e mercati azionari al crowdfunding di start-up a giochi d'azzardo con garanzia crittografica di correttezza addirittura nuovi modelli di democrazia che superino le ideologie del ventesimo secolo e rendano i politici veramente responsabili nei confronti dei cittadini Don Tepscott qui a TED si chiede come possiamo risolvere il problema della disuguaglianza? Possiamo creare nuovi approcci a questo problema? Finora l'approccio principale è stato ridistribuire la ricchezza attraverso le tasse ad esempio ma se potessimo cambiare il modo in cui si genera la ricchezza democratizzandola includendo più persone in questo processo e assicurandoci che ognuno riceva il giusto compenso secondo Hernando De Soto, il grande economista latinoamericano il primo problema, il primo ostacolo alla mobilità economica in Sud America è la mancanza di titoli di proprietà affidabili in zone dove l'accesso al conto bancario è molto rara non poter dimostrare di possedere una terra vuol dire non poterla mettere a garanzia di un prestito e quindi non poter fare progetti per il futuro in Honduras dove il problema è particolarmente sentito il governo sta collaborando con una società texana che si occupa di blockchain per mettere i registri di proprietà su questa tecnologia in questo modo sono distribuiti sono resistenti a compromissioni sono pubblicamente verificabili seguire questo esempio potrebbe potenzialmente creare prosperità per miliardi di persone si stima che più di due terzi dei proprietari terrieri al mondo non abbia un pieno titolo di proprietà il maggior flusso di denaro da paesi sviluppati a paesi in via di sviluppo sono le rimesse degli emigrati è la diaspora globale persone che lasciano il proprio paese di origine la propria famiglia e vanno a lavorare in altri paesi ogni mese mandano a casa nel proprio paese di origine parte del loro stipendio si tratta di un mercato di più di 600 miliardi di dollari all'anno e sta crescendo una domestica filippina che vive negli Stati Uniti e vuole mandare soldi a sua madre nelle Filippine con Western Union deve pagare quasi il 10% di commissioni e il processo dura 4-7 giorni esiste un'applicazione basata su blockchain chiamata Abra che consente di mandare attraverso bitcoin fondi in maniera istantanea alla madre appare una notifica tua figlia ti ha mandato 10.000 pesos lei non deve conoscere bitcoin ha una mappa simile a quella di Uber in cui ci sono tanti omini che si spostano proprio un po' come i taxi di Uber seleziona quello più vicino o quello che ha il feedback più alto e queste persone per una piccola commissione sono disposte a fare da corriere di contanti per conto di Abra in questo modo ne seleziona uno bussa alla porta e riceve i suoi 10.000 pesos in pochi minuti il processo è stato quasi istantaneo e le è costato solo il 2% di commissioni che sono rimaste nell'economia locale credo che seguire questo esempio creerebbe prosperità per altri miliardi di persone la grande maggioranza di autori e creativi non ricevono un giusto compenso perché il sistema di proprietà intellettuale è inefficace prendiamo esempio la musica agli artisti rimangono solo le briciole alla fine della catena alimentare Imogen Hip la grande cantautrice e vincitrice di due Grammy ha deciso di spostare la sua musica su un sistema basato su blockchain di nome Mycelia si tratta di un contratto intelligente che integra un sistema di pagamento e definisce i termini della proprietà intellettuale ad esempio se si vuole solo ascoltare la canzone è gratis o costa una frazione di centesimo se la si vuole usare come suoneria è diverso se la si vuole usare come colonna sonora di un film ovviamente è ancora diverso e siccome integra anche i pagamenti questo sistema i soldi rimangono nelle mani degli artisti si vengono eliminati diversi intermediari e questo non si applica solo alla musica ma si applica potenzialmente ad ogni creatore di contenuto video, invenzioni eccetera la tecnologia di blockchain benché nella sua infanzia si configura come una grande e concreta opportunità di riscrivere la rete di scambi economici risolvendo alcune delle questioni globali più importanti e difficili ci consente di scambiare denaro e beni fisici e digitali in modi nuovi potrebbe rendere obsoleti alcune istituzioni a cui deleghiamo funzioni fondamentali della nostra società come banche, assicurazioni e notai costringendole a diventare più decentralizzate e più sicure potrebbe rivelarsi un formidabile strumento di democratizzazione delle risorse e della ricchezza la sua natura trasparente potrebbe aiutare a risolvere problemi millenari come la corruzione consentendo ad esempio ai cittadini di verificare il flusso di fondi pubblici potrebbe rivoluzionare il mondo delle no profit consentendo di donare a progetti verificabili pubblicamente e tutto questo, un po' in silenzio, sta già accadendo grazie 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 grazie